Benvenuti nello Smart World Lishani! È arrivato mio Tab Laptop SmartKid 6.0, il numero uno dei tablet frescolari, fatto apposta per noi bambini. Imparo, gioco e mi connetto in tutta sicurezza. Ha una vera tastiera removibile e ho tutto in uno. Laboratori attivi, giochi, TV e una vera scuola di scrittura. In più, con la realtà aumentata, i miei disegni si animano! Sono i più divertenti! Mio Tab Laptop per gli SmartKid di domani. Lishani Worldwide Education